Che cos'è l'intolleranza, che cos'è la discriminazione, che cos'è il razzismo? E' il voler vedere gli altri e paragonarli solo ed esclusivamente a noi stessi, cercando la differenza. L'unica cosa reale, l'unica cosa vera, è che se paragoniamo tutti gli altri a noi e solo a noi, troveremo solo ed esclusivamente differenze e cominceremo ad escludere. Questo fa la discriminazione. Il problema, Michele, è quello che abbiamo detto tutta questa sera, che è molto politico, che non esiste una parte politica che prende le parti dei discriminati, che siano una comunità LGBT, afrodiscendenti, che siano rome e sinti. Non esiste qualcuno che parla degli ultimi. Quindi creando la libertà e la democrazia per qualcuno sì e qualcuno no. Come si pretende in questo paese che le minoranze, che rappresentano un grandissimo gruppo, messi insieme, sono un grande gruppo, vanno a votare per quelle persone che dicono io ti rappresento. Ma poi quando arrivo al potere non si vede più nessuno. Dov'è la democrazia? Quando i bambini, i ragazzi, per la loro scelta, per il loro essere, per quello che sono, per dire io sono questo, vengono picchiati per strada. Parliamoci chiaramente, chi di voi quando è entrato in metropolitana e vede una donna rom non si mette le mani in tasca? Parliamoci chiaramente, la discriminazione la facciamo noi, tutti i giorni, tutti, ognuno di noi, indiscriminatamente. Questa è la verità. Però come si combatte tutto questo? Come si affronta questo? Perché creare problemi e cercare problemi lo sanno fare tutti. Come si affronta la discriminazione se non facendoci domande? Se non valutando noi stessi prima di tutto per la discriminazione? Perché ognuno di noi è stato discriminato. Pensate alla scuola. A scuola tutti sono discriminati. Chi ha i brufoli, chi ha un pochino più grasso, chi ha gli occhiali. Ma ricordatevi che i brufoli passano, il grasso lo togli, gli occhiali metti lenta a contatto. Zingaro, nero, frocio, ci rimani. E ti rimane addosso per tutta la vita. E l'avete detto tutti. L'abbiamo visto tutti. Michele, come si combatte questo? Con l'informazione. La conoscenza abbatte qualsiasi muro. Dalla conoscenza nascono il rispetto e la coesistenza. Perché ricordiamoci bene, noi non vogliamo essere assimilati. Io sono un cittadino italiano di etnia rom. Le minoranze non cercano l'assimilazione. Cercano la coesistenza. Perché noi siamo felici di essere quello che siamo. In qualsiasi tipo di minoranza possibile. Grazie. 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 Grazie.